Sono Mauro Mesiano, un giovane come Matteo che è ora nel contesto della finanza, appunto in una banca paneropea italiana. Ho un hobby che è quello sempre di espandere di più la mia conoscenza e anche trasmettere quelli che sono i valori culturali e finanziari. Ovviamente con questa associazione, con questo gruppo anche di persone che è fiato, finanza a Torino Talk, un nostro salottino di dibattito. Avremo come ospiti tantissime persone. La tipologia è quella appunto di un semplice dialogo che tutti insieme andiamo a condividere con voi dal video da poter anche seguirci nelle nostre future occasioni. Ovviamente vi aspettiamo anche voi per poter essere coinvolgenti con quello che può essere il nostro obiettivo, ovvero far riconoscere e conoscere la finanza o comunque gli argomenti finanziari che probabilmente si operano sul territorio, ma anche su quelli che potrebbero essere i nuovi trend dei prossimi 5 o 10 anni. Con noi ci sarà Matteo Basei, moderatore e azionista Exor e presidente del Circolo dell'Innovazione.